Un saluto dal Tg della Mobilità. Domenica torna l'appuntamento con la Maratona di Roma. Circa 11.000 gli atleti in gara si sfideranno su un percorso lungo 42 km e 195 metri con partenza e arrivo in Via dei Fori Imperiali e passaggio, tra gli altri lungo le terme di Caracalla, la Basilica di San Paolo, il Circo Massimo, l'Isola Tiberina, la Basilica di San Pietro, il Foro Italico, Ponte Milvio, la Moschea, l'Auditorium, Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. Sabato sera le prime chiusure al traffico e le deviazioni per i bus. Poi domenica durante l'evento 10 linee saranno sospese, 9 saranno deviate, mentre altri 52 collegamenti verranno limitati nei loro percorsi.